tra le pagine del libro di un cacciatore ho finito di leggere in una cronaca di giornale un dramma della passione l'uomo l'ha uccisa poi si è ucciso dunque l'amava che cosa importano lui e lei importa soltanto il loro amore il quale mi interessa non già perché mi tenerisca o perché mi faccia sognare ma perché risveglia un ricordo della giovinezza un ricordo di caccia nel quale l'amore mi apparve come la croce appariva nel quale l'amore mi apparve come la croce appariva in mezzo al cielo ai primi cristiani sono nato con tutti gli istinti e i sensi dell'uomo primitivo temperati dal razzocinio e dalle emozioni della civiltà amo appassionatamente la caccia e la bestia insanguinata il sangue sulle piume il sangue sulle mie mani mi sconvolgevano il cuore sino a farlo mancare in quell'anno verso la fine d'autunno il freddo giunse bruscamente e da uno dei miei cugini carla di rouville fu invitato a cacciare l'anitra con lui nelle paludi sul far del giorno mio cugino un omone quarantenne sanguigno robustissimo e barbutissimo dentro l'uomo di campagna una specie di brutto cortese carattere allegro dotato di quello spirito gallico che rende piacevole la mediocrità abitava una sorta di fattoria castello in un'ampia valle dove scorreva un fiumicello le colline a destra e a sinistra erano folte di boschi vecchi boschi feudali dove sopravvivevano magnifici alberi e dove si trovava la più rara selvaggina piumata di tutto quel lembo di francia qualche volta ammazzavamo anche un'aquila e gli uccelli di passo quelli che non vengono quasi mai nei nostri paesi troppo popolati si fermavano sicuramente su quei rami secolari come se avessero conosciuto o riconosciuto un angolo di foresta dei tempi antichi rimasto lì per servir loro d'asilo nella breve tappa notturna nella vallata si stendevano ampi pascoli bagnati da ruscelli e separati da siepi poi più lontano il corso d'acqua canalizzato sino a lì si allargava in una vasta palude questa palude la più stupenda riserva di caccia che abbia mai visto costituiva la maggiore occupazione di mio cugino che le dedicava cure quali si dedicano a un parco attraverso i folti canneti di cui era coperta che i quali pareva vivere mormorare e fluttuare ai venti erano stati tracciati stretti sentieri dove le barche piatte sospinte e dirette ad apertiche passavano silenziose sull'acqua morta rasentando i giunchi facendo fuggire rapidi i pesci attraverso le piante acquatiche e tuffare le gallinelle la cui testa nera e aguzza scompariva bruscamente amo l'acqua con una passione disordinata il mare sebbene troppo vasto troppo irrequieto impossibile a dominarsi i fiumi così belli ma che passano fuggono se ne vanno e specialmente le paludi dove palpita tutta l'esistenza sconosciuta delle bestie acquatiche la palude è un mondo intero sulla terra mondo multianime che ha una sua vita i suoi abitanti sedentari i suoi viaggiatori di passo le sue voci i suoi rumori e soprattutto i suoi misteri nulla è più emozionante più inquietante più spaventoso a volte ed una palude da che deriva infatti la paura che aleggia su queste basse pianure coperte d'acqua forse dai rumori delle canne dagli strani fuochi fatui dal silenzio profondo che le avvolge nelle notti placide o dalle brume bizzarre che indugiano nei giunchi come sudari funebri oppure anche dall'impercettibile secquio così lieve così lento e talvolta terrificante più dell'arma meccanica o del cielo celeste lo secquio che fa somigliare nei paludi a paesi di sogno a paesi paurosi che nascondano un segreto impenetrabile e pericoloso no altro se ne sprigiona un altro mistero più profondo più grave fluttuante nella nebbia spessa forse il mistero stesso della creazione non ha infatti nell'acqua stagnante e fangosa nella pesante umidità delle terre infradiciate sotto il calore del sole che si agitò vibrò si schiuse alla luce il primo germe di vita arrivai a sera da mio cugino faceva un freddo da spaccare le pietre durante il pranzo nella grande sala con le credenze le pareti il soffitto coperti d'uccelli impagliati con le ali aperte o appollegliati sui rami appesi a chiodi sparvieri eroni gufi poiane terzuoli avvoltò i falchi mio cugino simile anche lui a uno strano animale dei paesi freddi vestito con una giacca di pelle di foca mi numerava le disposizioni prese per quella notte di caccia dovevamo partire alle tre e mezzo del mattino per poter arrivare alle quattro e mezzo nel luogo scelto per l'appostamento in quel posto era stata costruita una cappannuccia con blocchi di ghiaccio per ripararci un po dal vento gelido che precede il levar del sole quel vento carico di freddo che lacera la carne come fosse una sega la taglia come fosse una lama la ferisce come fosse una manciata di aghi avvelenati la tortura come se la dentasse una tenaglia la brucia come fosse fuoco mio cugino si fregava le mani non ho mai veduto una gelata uguale a questa diceva abbiamo già 12 gradi sotto zero alle 6 di sera subito dopo cena mi buttai sul letto e mi addormentai alla luce di una grande fiamma serpeggiante nel caminetto alle 3 mi svegliarono indossai a mia volta una pelle di montone e trovai mio cugino carlo coperto di una pelliccia d'orso bevute due tazze di caffè bollente due bicchieri di acquavite alla charente per ciascuno partimmo accompagnati da un guardiano e dai nostri cani blongéon e pierrot già dai primi passi all'aperto mi sentia ghiacciare fino alle ossa era una di quelle notti nelle quali la terra sembra morta di freddo e l'aria gelida diventa resistente palpabile tanto da far male nessun brivido la scuote era presa immobile morde attraversa inaridisce uccide gli alberi le piante gli insetti persino gli uccelli che cadono dai rami sulla terra dura e subito si irrigidiscono anch'essi sotto la stretta del freddo la luna all'ultimo quarto tutta curva su un fianco pallidissima pareva svenire in mezzo allo spazio e così debole da non poter più andarsene da dove rimanere lassù colpita anch'essa paralizzata dal rigore del cielo essa spandeva sul mondo una luce arida e triste quella luce morente e opaca che ci manda ogni mese alla fine della sua resurrezione camminavamo fianco a fianco io e carl la schiena curva le mani in tasca il fucile sotto brazzo le nostre calzature a volte di lana perché potessimo procedere senza scivolare sul fiume gelato non facevano alcun rumore e io guardavo il fumo bianco prodotto dall'alito dei nostri cani ci trovammo in breve sull'orlo della palude e ci inoltrammo in un sentiero di canne secche aperto attraverso quella bassa foresta i nostri gomiti sfiorando le lunghe foglie a nastro lasciavano dietro di noi un leggero fruscio e mi sentii perso come mai mi era accaduto dall'emozione conturbante e singolare che desta in me la palude era morta morta di freddo e noi le camminavamo sopra in mezzo alla sua turba di giunchi dissecati d'un tratto alla svolta di un viottolo scorsi la capannuccia di ghiaccio che c'eravamo preparati per mettersi al riparo vi entrai e poiché avevamo quasi ancora un'ora da aspettare per il risveglio degli uccelli di passo mi avvolsi alla coperta allo scopo di cercare di riscaldarmi un poco allora sdraiato sul dorso mi mise a guardare la luna deformata che attraverso le pareti vagamente trasparenti di quella casa popolare appariva con quattro corni ma il freddo della palude gelata il freddo delle pareti del ricovero il freddo del firmamento mi penetrarono rapidamente nelle ossa e così acutamente che cominciai a tossire mio cugino carlo fu preso dall'inquietudine tanto peggio se oggi non faremo buona caccia disse l'importante è che tu non prenda un raffreddore accenderemo un fuoco e diede ordine al guardiacaccia di tagliare delle canne e fu fatto un mucchio al centro della capannuccia aperta in alto per dare un passaggio al fumo e quando la rossa fiamma salì lungo le trasparenti pareti di cristallo esse cominciarono a disciogliersi ma dolcemente a poco a come se quelle pietre di ghiaccio sudassero carl rimasto di fuori mi gridò vieni a vedere uscì e restai colpito dallo stupore la capanna in forma di cono sembrava un enorme diamante dal cuore di fuoco spuntato d'improvviso sull'acqua gelata della palude e all'interno si vedevano due forme fantastiche quelle dei nostri cani che si scaldavano ma un grido bizzarro un grido smarrito un grido errante passò sulle nostre teste il chiarore del nostro focolare risvegliava gli uccelli selvatici nulla commuove come quel primo clamore di vita che non si vede e che corre nell'aria oscura così rapido così lontano prima che appaia all'orizzonte la luce dei giorni invernali in quella gelida ora dell'alba mi sembra che il grido fuggente portato dalle piume di una bestiola sia un sospiro dell'anima cosmica carl diceva spegnete il fuoco ecco l'aurora infatti il cielo incominciava a impallidire e gli stormi di anitre selvati che segnavano nel firmamento lunghe macchie rapide presto svanite un lampo guizzò nella notte carl aveva sparato e i due cani si slanciarono allora di minuto in minuto con vicenda alterna spianavamo rapidamente il fucile non appena di sopra le canne appariva l'ombra di una tribù volante e pierre e plogion aneravano gioiosi ci portavano le bestie sanguinanti i cui occhio talvolta ci guardava ancora era spuntato il giorno un giorno chiaro e sereno il sole appariva in fondo alla valle e già pensavamo al ritorno quando due uccelli collo proteso e agli spiegate scivolarono bruscamente sulle nostre teste sparai uno di essi cadde quasi ai miei piedi era un arzavola dal ventre argenteo allora nello spazio sopra il mio capo una voce gridò la voce di un uccello era un lagno breve ripetuto straziante e la bestia la bestiola superstite cominciò a roteare sopra di noi nell'azzurro del cielo guardando la compagna morta che tenevo in mano carl in ginocchio il fucile sulla spalla l'occhio ardente lo spiava aspettando che fosse più vicino hai ucciso la femmina disse il maschio non se ne andrà infatti non se ne andava girava girava sempre e gemeva intorno a noi ma è gemito di sofferenza mi laccerò il cuore come quell'appello desolato quel lamentoso l'improvero del povero uccellino perduto nello spazio tirava girava poi fuggiva sotto la minaccia del fucile puntato e sembrava deciso a seguire il nuovo cammino tutto solo attraverso il cielo ma non sentendosi di proseguire ritornava subito a cercare la compagna lasciala per terra mi disse carl fra poco si avvicinerà infatti si avvicinava non curante del pericolo impazzito d'amore per l'altra bestiola che aveva ucciso carl tirò fu come se qualcuno avesse reciso la corda che lo teneva sospeso in aria vidi cadere una cosa nera sentì nel canneto il rumore di una caduta e pier me lo portò lo misi già freddo nello stesso carniere e ripartì in giornata per parigi